Allora come fiduciario CONI del Comune di Cavade di Reni partecipiamo a questa riunione perché naturalmente invitati ma soprattutto anche perché abbiamo partecipato ad una precedente riunione dopo la lettera del Presidente Roncelli e dopo una seconda lettera in cui noi, il CONI è preoccupato perché c'è una mancanza di attività soprattutto giovanile dove cava negli altri anni è stato veramente il fiore all'occhiello per quanto riguarda sia in campo provinciale, regionale e nazionale per cui noi auspichiamo che si trova una soluzione a questo problema perché ripeto c'è una grossa difficoltà nell'utilizzo delle strutture. Questa difficoltà naturalmente si riversa sui ragazzi che purtroppo non fanno attività sportiva o quantomeno è molto ma molto ridimensionata.